Oracle, ho distrutto l'impianto di produzione di Titan, ma Joker è scappato con... ...materiale sufficiente per causare problemi a tutti. E tu che pensavi che non potesse andare peggio? Hanno usato un ibrido di Venom vegetale per creare la variante del Titan. La soluzione sta nella pianta e c'è solo una persona ad Arkham che può darmi una mano. Cosa ti fa pensare che Ivy sia disposta ad aiutarti? Se le sue piante sono in pericolo mi starà ad ascoltare. Ho un campione della sua firma al Fiorormone. Deve essere nei giardini. La troverò. Avrò bisogno di qualcosa per superare questa voragine. Con questo è un campione di Catena. Sì, non è". Grazie. Adesso posso andare a cercare Ivy. Eccitante, vero? Eccitante, vero? Eccitante, vero? Eccitante, vero? Va tutto bene tesorucci? Ci sono qui io adesso, povere piccole. Sì, lo so che ci ha scoperte, ma non gli permetterò di farvi del male. Lo ucciderò. Ivy, la dottoressa Yang ha mutato queste piante per produrre il venom. Sì, e ho saputo da fonti ufficiose che quella strega ha pagato per questo. Mi serve il tuo aiuto per trovare l'antidoto. Perché dovrei? Che Joker si diverta. Sarà un piacere vedere che ti contorci. Sei stata troppo al buio. Ogni pianta di questa isola riceverà lo stesso trattamento se non collabori. C'è una pianta che cresce nelle viscere dell'isola di Arkham. È in grado di annullare gli effetti di questa variante di Titan. Dove si trova? Oh, nella tana di Killer Croc. Pensavi che sarebbe stato più facile, vero? Torna nella tua cella, altrimenti dovrai vedertela con me. Ti aspetterò. Oracle, devo trovare il modo di entrare nella tana di Killer Croc. Si trova da qualche parte sotto l'isola di Arkham. Il sistema non dice dove lo tengono. Ho trovato una porta vicino alla Batcaverna, ma è sigillata. Deve esserci un altro modo di entrare. Ho lasciato la guardia Cash nella residenza. Spero che lui possa illuminarmi sulla tana di Croc. Stiamo a giocare ancora un po' con quella stronza. Il capo non è ancora pronto. Non ci volevo andare anche a tutti. Si, la scuola non è normale. che cosa diavolo era che cosa diavolo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti